All'umanità è richiesto uno sforzo collettivo che raramente ha potuto sperimentarsi prima. Serve tutta la nostra capacità di prendersi cura gli uni degli altri. Questa non sarà probabilmente l'ultima crisi di fronte alla quale ci troveremo. Però sappiamo che potremo affrontare le sfide che ci si presenteranno dinanzi se ognuno di noi farà un sacrificio per amore di tutti. Lasciare una cosa meno importante per una cosa più importante. Grazie. 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 Grazie.